Presentato stamattina, sabato 2 marzo, il nuovo e secondo percorso cittadino proposto da Verona Minori Jerusalem dal titolo Veronetta, chiese, porte e mura tra natura e cultura. Dopo il tratto sulla via Postumi alla San Zenetto a Porta Borseri lo scorso febbraio, infatti stamattina dalle 9 alle 13, i 100 visitatori hanno potuto riscoprire chiese e monumenti in sinergia con le istituzioni. Il percorso di oggi è stato il modo per mettere insieme un percorso della Verona Minori ma anche sentieri diciamo così già battuti da lega ambiente per la parte delle mura e dall'università per quanto riguarda Santa Marta. Diciamo che siamo un po' come quegli scalatori che alle volte aprono nuove vie, altre si servono di vie nuove ma anche di vie che sono già state percorsi. La mattinata si è aperta alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso per poi spostarsi a Santa Marta. La visita ha poi toccato il bastione delle Maddalene e Santa Toscana, l'antica porta al Santo Sepolcro, Alto San Nazaro e la batteria di Scarpa. Noi ci troviamo alla provianda di Santa Marta che è oggi il polo delle discipline economiche dell'Università di Verona. Verona è l'antico panificio dell'impero austro-ungarico costruito fra il 1863 e il 1866 dal genio militare di Vienna e andato in funzione per l'impero austro-ungarico una sola volta in occasione della battaglia di Custoza del 24 giugno del 1866. Poi nell'ottobre, come è noto, Verona insieme a Mantua e parte del Friuli verrà ceduta alla Francia e da questa al Regno d'Italia e quindi questa provianda diventerà il panificio dell'esercito italiano. Lavorerà fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale e oltre e oggi che l'Università ne è la proprietaria ma anche l'erede di questo luogo storico è nostra volontà organizzare queste visite guidate per i cittadini affinché conoscano la bellezza di questa architettura e la sua storia in un contesto che è stato molto importante fin dal Medioevo in tutta quest'area che si estende dalla Porta del Vescovo fino al fiume Adige.